Quella sciagurata scelta che 60 anni fa ci condannò tutti all'economia del petrolio non si deve ripetere più. È il principio da cui partono i comitati No Inceneritore che lanciano una nuova campagna in vista delle elezioni che si terranno a Milazzo e Barcellona con lo slogan «Sull'inceneritore ci metto la faccia». Quella famosa scelta a cui si riferiscono i comitati è legata alla raffineria mediterranea e ora gli attivisti vogliono conoscere il pensiero dei candidati sindaco delle due città in merito alla riconversione della centrale termoelettrica di Archi in Inceneritore CSS. In un momento così concitato come quello della campagna elettorale, il cumulo di promesse è sempre lo stesso, sottolineano i comitati. La solita tiritera di Santini e Comizi, infarcita da tutto quello che offre l'evoluzione della comunicazione digitale, siti web, pagine Facebook, twittate in libertà, com'è possibile, si chiedono i comitati, che tra una diatriba sulle buche e un'altra sulla viabilità i candidati non abbiano ancora preso posizione sulla questione della riconversione della centrale termoelettrica di Archi in Inceneritore? Una questione così importante che investirà la vita degli abitanti, dei loro comuni e di quelli dell'incomprensione nei prossimi decenni. Nasce dunque così la campagna «Sull'inceneritore ci metto la faccia». Attraverso una lettera aperta i comitati chiedono ai candidati sindaco di Milazio e Barcellona di prendere una posizione netta a favore o contro la riconversione della centrale di Archi in Inceneritore. Le risposte o le non risposte dei candidati saranno poi riportate sulla pagina Facebook. Per noi è infatti indispensabile che i cittadini scelgano se e quali candidati votare anche in base a quanto questi si impegneranno a fare rispetto ad un tema così importante per la loro vita, quali sono le tematiche ambientali e in particolare la riconversione della centrale di Archi, concludono i comitati.